E ancora, ti fai sembrare una persona veloce, Michael. Siamo alla breccia per il rosso. Occhio, c'è gente nel rosso. Parecchia gente. Oh, mi arrivano colpi. Sì, 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 occhio, tutti nel rosso. Mi arrivano colpi, infatti. Il rosso, l'edificio rosso. Il rosso è l'edificio rosso. Non è la granata. Fa pure rima, il rosso è l'edificio grosso. Ma qualcuno di noi è dentro le mura? Ma qualcuno di noi sta sparando questi colpi. Questo è la breccia, sto sparando io. Eh, vengo alla breccia anch'io che sto di sniper. Questo è il casotto blu. Io sto sulla collina di foglia rialzata. Ma sono morto. No. Chi è che è corso dentro le mura? Io sono davanti al camion con il container blu. Eh, ma mo' siamo confusi Cooper. Cioè, mo' non ti si distingue più. Ok, sono all'entrata principale loro. Sono dietro il container blu anche io. Ma io ho sentito sparare praticamente dietro la breccia. Chi c'è dietro la breccia? Siamo dentro. Raga, dentro la breccia. Noi siamo dentro. Raga, io allora sparo, eh. Noi siamo qui. Noi siamo i camion con i container blu. Ce ne sono due camion con i container blu e io sono tra la breccia e il camion blu. Vi vedo, vi vedo, raga, vi vedo, vi vedo. Mi sposto a quello bianco. Sento passi pure dietro di voi. Ma ecco. Chi è questo? Chi è questo? Non sto capendo. Chi ha sparato? Ora io. Raga, chi è che sta col QB, la zaino? Raga, il 4x4. Chi ce l'ha di noi? Il MBSS? Il MBSS. Chi ce l'ha di voi? Ah, io, io, io. Ah, ok. Eccoti, eccoti. C'è andrà uno all'ingresso. Eh, mi ha ucciso. Cazzo. Eh, dov'era? Eh, proprio all'ingresso. All'ingresso del container. Quale container? Cioè, qui è pieno di container. Eh, sì, capannone rossa. Proprio all'ingresso. Credo si sia beccato qualche colpo. Io, raga, sto allargando. Io sto lungo i binari. Sì, arrivo anch'io. Sto facendo il giro. Minchia, ti ha fatto da qua? Eh, ma anch'io io l'ho ferito parecchio, perché mi ha dato il count 5. Anzi, io sono proprio dietro dal muro ai treni. Quello per poi andare al ponte. Così dove sta? Sono la cappa. Ma l'avete ucciso il tipo o no? No, no. Ok, allora io sto lungo il muro all'interno, praticamente, del lato rosso. Invece sono lungo il treno, ma dietro il muro. Nessuno ha superato la linea del muro dell'edificio rosso, giusto? Nessuno. Io sono dall'uscita questo qua, guarda qui. Beh, aspetta, Michael, sto puntando. Visto, 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 visto. E di nuovo all'ingresso, di nuovo all'ingresso. L'ho visto muoversi, raga. Forse esce dal lato vostro, dall'uscita vostra. Sta dentro l'edificio, comunque. Ok, io mi sto avvicinando. Sono nello spiazzo, io. Io sto tenendo d'occhio l'altra uscita, raga. Se l'ho pushata dall'altro l'ho chiapata. Comunque sta dentro. L'ho visto dentro, aspetta lì, probabilmente. Eccolo, eccolo, l'ho visto. È nel container rosso. Ok, è dentro l'ufficio. C'è un altro dentro l'ufficio, però. Ok, io l'ho ucciso uno nel container rosso. Ricarico, cambio posizione. Mi ha colpito pure lui, non so cosa mi ha fatto. Ok. Mi ha quasi niente. Ai 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 ai. Ok, sono in tre, allora. Uno l'hai ucciso a te, ce ne sono due vivi. Io sto cambiando, io sono dall'altro lato dei binari, raga. Sto guardando sempre l'ingresso principale. Non lo vedo più l'ingresso principale. C'è una cosa un po' riuscita. Chi è che sta fuori dal magazzino, raga? Gli ho lanciato una granata dentro. Oh, mi sono. Ne ho ucciso uno. Sei sicuro? Sì, sì. Era qui fuori. Che è riuscito dall'altra uscita. Da quella verso la breccia. Ma sono dentro ancora? Sì, mi sa che ce n'è ancora uno dentro l'ufficio. E se non è dentro l'ufficio, è in fondo al capannone, dove c'è la cassa militare, più o meno. Qualcuno la vede l'uscita principale? Io poco poco la vedo. Cioè, io vedo... Se dovesse uscire sul piazzale... La vedi all'Ieban... Allora, Fraus, vieni nel bar. Oh, raga, sta arrivando uno, sta arrivando uno. Dove? Michael, ti sta per arrivare? Sta entrando all'uscita. L'ingresso principale sta in fondo. Cazzo di scav. Eh, potevamo non uccidere e farlo entrare, comunque. Eh, ma stava sparando a me. Era... Oddio. Sento voci un altro scav, raga. Mi sa che vicino a me. Eh, vicino a un container blu. L'ho ucciso. Vieni nell'altra entrata con me, Fra? Quale? Quello principale o quello laterale? Quello laterale. Eh, ma io sto lontanissimo. Io sto dalla parte opposta. Provo a mettere il mio più centrale, Michael. Ok, guarda quello principale. Ok, lo sento che salta. Potrebbe forse salire... Lo vedo. Sopra... Vedo l'ingresso principale. Salta da l'altra parte. L'hai visto? No, vado da l'altra parte. Eccolo. Dov'è, dov'è? È l'alto sinistro. Ma sotto o sopra? Sopra. Ok, te fai il fuoco e io entro. Inizia a sparare a caso anche. Ok. Io sto guardando l'ingresso principale. Dov'è, dov'è, dov'è? Negli uffici, eh? Sì, negli uffici. Ma gli buttiamo le granate. Ma di noi chi è rimasto vivo? Io. Io e chi altro? Raga, non erano più cinque in squadra. È morto subito. Io pure. Cooper, tu dove sei? Io sono nell'altra uscita, quella vicino alla breccia. Sono altri due perché ce ne ne sento. Uno dentro gli uffici e uno invece è nella grata, quella degli uffici. Nel balconcino. Che facciamo? Li aspettiamo? Eh, ci conferrebbe alla fine. Tanto loro devono uscire in un modo o nell'altro. E due sono le uscite. Ma quindi, raga, confermate siamo vivi soltanto io e Cooper? Sì. 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 Si sta vicino. Cooper, sei tu che hai corso? No. C'è uno che ho corso visto a destra al lato. È lato tuo. Mia destra? Dal lato tuo ho visto movimento. Allora, sei tu che ti stai muovendo. Sì, qui sono io. Ah, ok. Te dove sei messo? Sto lungo i binari guardando l'ingresso principale. Ok. Credo che uno sia... Sì, dentro, perché ho sentito che ha sfondato una finestra. A uno gli ho fatto male. Tanto male. Eh, ma erano tutto il tempo di... Che da sotto la grata gli ho sparato in testa e ho sentito anche il colpo che l'ha presa. Quanto manca per uscire? E' tutto venuto ancora. Io ho ancora... Ehm... Kiever e Paka al massimo. Però no... Io... No, a me ho un po' danneggiato il Paka, ma ho tutta la vita al massimo. E qui, allora, è lotta di nervi ad aspettare, che dici? Io provo a dare una controllata. Te la senti? Allora, Cooper, possiamo provare a fare una cosa? Sì. È una granata? Le ho finite. Bene. Scav. Scav che interferiscono. Ricarico. Uno l'ho ucciso. L'ho ucciso un altro che era con la porta. Quindi è rimasto uno, teoricamente. È rimasto uno, sì. A me mi ha bucato lo stomaco. Se vuoi entriamo insieme. Ok. Aspetta che mi avvicino. Eccolo! Entrata principale? Forse l'ho ucciso. L'ho ucciso, l'ho ucciso io. L'ho ucciso, l'ho ucciso. L'ho ucciso, l'ho ucciso. L'ho ucciso, l'ho ucciso. Aspetta che mi devo curare che sto, sto morendo. Sto ferito in maniera molto, molto grave. Ora si esce. Io sono dentro, eh. Eh, sto arrivando. Lasciami qualcosa, non ti fregare tutto. No, sto luttando questi qua dall'altra parte. Sì, ma ci sono gli scav. Ah, io ho distrutto il... No, è uno degli ethi. Di chi? Ethi, gruppo italiano di Escape from Tarkov, li conosco. Quindi sono soddisfazioni. Sei te che corri. Ma chi l'ho ucciso? Tu o io, questo? Vediamo. Mi sa che l'ho ucciso io. Perché l'ho preso. Umba, sento che ho sentito sparoni. Uno scavisha. Ucciso. Ma come nemmeno mai si armi? Eh, AKM. Un Vepre, vediamo più attento. Una bottiglia d'acqua. Ciao, ciao, Monti. Uh, il formaggino. Mio. Sotto. Spero abbiano dei liquidi. Eh, ho bevuto io. Ok, una lunchbox. Due lunchbox. Uh, e un'acqua. Ottimo. Mi sono dimenticato cosa dovevo fare. Butta via le armi. Eh, di cosa. Io direi che dobbiamo scappare letteralmente. Vieni qua se hai posto. Vuoi vedere se l'ho ucciso questo, aspetta. Sì, sì, un po' di posto ce l'ho. Ok, perché qui c'è un AKM. Ah, l'ho ucciso io. Ah, l'ho ucciso? Buono. L'abbiamo sparato in due. Buono. Il mio AK l'avevate buttato? Sento passi, sei tu? Sì, sono io qua. C'è un dottore Q, c'è un dottore Q, perché trovo da 60 e lei. Cazzo, me lo tengo a fare il coso qua. Ma te sei fuori e dentro? Sto dentro, sto luttando. Vieni qua, che c'è uno con l'M4 a luttare. Eh, me lo piglio io l'M4. Sì, sì. Io mi son già preso una AKM e basta quello. Se trovate un M4 a tutto tunnel, è il mio, se potete buttarlo. E buttare anche io. Non ti vedo. Sento passi, corre, sei tu? Sì, sono io qui dentro che corro. Dov'è? Dov'è? È davanti all'entrata principale. Questo qua. Visto. Aspetta, lì c'è un... Scav, minimarket, aspetta. Aspetta, che c'è un mirino lungo con questo. Anch'io. Ma... Eh, ma... Perché non mi aspetta? L'ho preso in testa. È morto, dai. Sarebbe dovuto morire. Ce n'è un altro che sta correndo verso un boschetto. Però ce n'è uno qua. Lo sento parlare, occhio. Sì. Vabbè, la madonna. Visto, visto, visto. Qua pure uno. Ah, sto scattando. Ricarico. Ok, quell'altro dall'altra parte l'ho ucciso. Ricarico. C'era uno al minimarket, che non so se l'ho ucciso. E ho ripreso a tremare, che ho finito l'effetto del painkiller. Aspetta. Ok, vai. No, che palle mi sta guardando qui in camera. Guarda, secondo me stanno... Stanno sponando a madonna. Ok, è morto, questo è il minimarket. Stanno sponando a madonna scav, perché mi sta dando un sacco di micro lag. Usciamo? Ok, crede di averne ucciso uno anche sulla casa in costruzione. Proviamo ad andarcene. Sì, sì. Siamo pieni, 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 pieni. Occhio se è poppato qualcosa al... Magari si fa il giro da diet... Te c'hai la factory. Sì. A me ci converebbe fare il giro là, infatti. C'è uno scavo qui davanti. Dove? A sinistra pure hai sentito parlare? Sì. Vedo le gambe dietro il tubo. L'ho ucciso? Quello dietro il tubo, sì. Poi ce n'era uno qui davanti. Mi sa che ce n'è un altro qui davanti. Come te la fidi, ancora? C'è il toss. Vedo dove. E' in mezzo alla boscaglia. Torna indietro, torna indietro, torna indietro. Visto, 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 visto. Allora, sta uno all'ingresso degli autobus. Uno era al muro a destra. Uno era nell'altro muro. Eh sì, è uscito da lì, eh. L'altro non lo vedo in mezzo alla boscaglia. Dove sei? Dietro di te. Eh, sono qui accanto. Sì. Facciamo il giro lungo, lungo, lungo. Sì. Tanto abbiamo 11. Occhio, capace che spunta adesso. La porta ce l'ho 11 adesso. Per Siete rimasti in due Sì siamo in due No raga comunque ieri Abbiamo fatto un loot pazzesco Stavamo io e Euta Non vi dico cosa abbiamo lootato Vi dico solo il contesto Immaginate nel sanatorio Abbiamo ucciso L'ultimo sopravvissuto di uno scontro tra due clan Noi ci siamo messi nei capelli Tutta la roba che abbiamo lasciato ancora là Perché non avevano lo spazio fisico Ma noi non vi siete lootati No nessuno ce l'aveva Sento sparare scav Quindi forse sono scav player Occhio Allora se ho altri Eh a voglia Siamo pieno di ghiacca adesso Senti io mi rimetto un altro Non hai le morfine ti do una morfina Ok Facciamo veloce Nel caso proprio mi serva ad emergenza L'uscita Non male c'ho ancora quelle che ha lanciato Ok presa Sì un attimo che me la metto sul 5 Nel caso dovessi andare all'improvviso Ok vai Sto andando lungo il muro Dove sei? Sì sì sono più avanti Ciao Ti vedo Qui riusciamo dalla factory? Sì Ma quindi quello di prima era un clan italiano? Sì gli eti ci giocavo con gli eti Infatti dopo gli andrò a scrivere sul discord GG No gli mandi direttamente la live Guarda se Se hanno visto il mio video Praticamente quello avrà visto che è stato ucciso da me Forse avrà intuito Scopri Se anche quelli degli eti ogni tanto guardano i miei video E hanno letto cooper Eh eh xd D'altro dobbiamo vedere Dobbiamo sperare che non ci sia qualche Scav player del cazzo che Senti si va a quella centrale Per evitare il fight Se controllo dietro Vai Seguo te Qual è quella centrale? Abbiamo bisogno di vedere se è aperta quella centrale Beh seguitamente è quasi sempre aperta Io non l'ho mai trovata aperta Che cosa? L'uscita del bunker centrale Guardate il riflettore Si è acceso Si può uscire E' acceso Vedi già la luce sulle foglie Parco Dopo questo ci vogliamo fare una woods Una shoreline Io devo ancora rifare la custom sempre per il gold Io devo fare invece la come si chiama Sempre gli scav A shoreline Oh bella Madonna che run Aspetta Tiene d'occhio l'uscita Non ci sta mai Come esperienza di cattivoni Alla prossima Alla prossima Alla prossima Alla prossima